Il peso l'ha fatto meglio di noi, non possiamo leggere così, quindi abbiamo perso meritatamente. Non c'è tempo per stare a piangersi troppo addosso, abbiamo una partita importantissima tra qualche giorno e dobbiamo essere diversi da questi. Se Liverani è stato il migliore in campo o comunque uno dei più bravi, vuol dire che la squadra oggi non ha risposto come pensavo. Grazie